L'emergenza per Montesilvano è arrivata da ieri, mezzi al lavoro, soprattutto una notte passata a monitorare il territorio, questa mattina qual è il quadro? Il quadro è che abbiamo ancora molte strade che devono essere pulite, soprattutto le strade minori, adesso abbiamo riaperto tutte le strade principali e stiamo facendo i collegamenti tra le strade principali e poi andremo avanti man mano per pulire il resto della città. Ci vuole un po' di tempo e un po' di pazienza. Quali sono state le aree che hanno avuto più criticità? Sicuramente Montesilvano Colle, è la zona di via Vestini a confine con Cappella e tutte le strade che salgono sempre al Colle. Un'altra difficoltà è quella dei mezzi, cercate nuovi mezzi per aumentare, visto e considerato che si parla ancora di nevicate per un'altra giornata? Sì, abbiamo appena scoperto che il maltempo dovrebbe durare ancora per la giornata di domani, speriamo di no, ma stiamo cercando di reperire qualche altro mezzo, abbiamo messo altre due ditte al lavoro e adesso abbiamo appena avuto la conferma di un'ulteriore ditta che potrebbe fornirci un altro mezzo. Si parla di approvvigionamento di sale in questa situazione, come si sta muovendo il comune? Anche questo è un po' un problema perché avevamo provveduto a prendere un po' di sale e ne abbiamo ancora qualche bancale, altri ne avevamo stoccati in dei magazzini delle ditte fornitrici che purtroppo sono irraggiungibili in altri comuni e quindi non riusciamo a farli arrivare. Qualche altro tir di camion, sempre per conto di queste ditte, mi dicono che è bloccato a Termoli, quindi anche lì c'è un po' di problema, speriamo di risolverlo nel primo pomeriggio.